SIGLA Mi chiamo Xavier, Charles Xavier. Piacere. Salute. SIGLA In te c'è molto più di quanto credi. È il mio figlio! Mamma! No! Non c'è solo dolore e rabbia. C'è del bene in te. E quando saprai dominare tutto questo, avrai un potere che nessuno potrà eguagliare. Neppure io. Domani l'umanità saprà che i mutanti esistono. Pronto, l'azione? Scopriamo. Ascoltami attentamente, amico mio. Uccidere non ti darà la pace. La pace non è mai stata un'opzione. Ovvero è ancora un lato per raggiungo direste. La pace non è stata un'opzione. Ciò è tutto. SIGLA SIGLA Grazie a tutti.